E nello stesso tempo additare un personaggio... Agrigento e Porto Empedocle uniti in un nuovo progetto per consentire il rilancio allo sviluppo della provincia. E questo è il frutto di una proposta lanciata dal sindaco di Porto Empedocle, Lillo Firetto, al sindaco di Agrigento, Marco Zambuto. Dopo aver dato vita all'unione dei comuni Vigata, Scala dei Turchi, allo scopo di favorire uno sviluppo turistico balneare e diportistico, adesso Firetto intente siglare l'unione con la città dei Templi, che viene vista come un punto focale attorno a cui costruire anche lo sviluppo del turismo croceristico. E d'altronte Agrigento e Porto Empedocle sono due città che potrebbero completarsi a Vicenta in quanto hanno in comune le grandi vie d'accesso, come la 640, la 115 e i raccordi con la 189. Ma non solo, un altro punto di forza deriva dalla centralità tra distretto territoriale e turistico Valle dei Templi, integrato al distretto tematico delle miniere in cui Valle e Stazione Marittima si fondono in un unico bacino di sviluppo. Non si devono poi dimenticare due scrittori, Camilleri e Pirandello, che accrescono il valore culturale delle due città. Ci sono dunque tutte le basi necessarie per favorire lo sviluppo sia turistico che industriale dei due comuni che hanno dei punti di forza che sono tra i più importanti della Sicilia. Io penso che su un piano politico strategico andremmo a ricomporre e soprattutto ricostituire quel filo rosso che voleva che Porto Empedocle fosse la marina di Girgenti. Quindi si andrebbe a ricostituire un territorio estremamente vasto. Il tema è quello di individuare e soprattutto fare in modo che questa sia una scelta condivisa, voluta dai cittadini e soprattutto non sia una scelta imposta. Penso che ci sono tutti i requisiti per poter ragionare.